Noi siamo nella prima ondata di chiusura quelli che hanno chiuso prima, siamo quelli che hanno riaperto dopo e adesso siamo di nuovo quelli che stanno a casa per primi. L'ultimo DPCM, secondo l'agente di spettacolo, ha reso evidenti tutte le difficoltà di un settore che forse è fra i meno ascoltati tra quelli colpiti dalle disposizioni inerenti all'emergenza sanitaria. Questi lavoratori, solo in regione, sono circa 7.000 gli occupati che equivalgono al numero dei contributi versati presso l'Inps nel corso dell'anno 2019. Quindi sono come una grande azienda. A livello Inps queste persone ci sono 5 miliardi depositati presso le casse e non vengono erogate tante pensioni, non c'è l'indennità di malattia, non c'è la Naspi, abbiamo un mondo del lavoro polverizzato, bisogna riordinarlo. Oggi sono scesi in piazza per farsi sentire, prima di consegnare al prefetto una lettera in cui la loro drammatica situazione è messa nero su bianco. Una situazione cui si è arrivati dopo anni in cui, normativamente, poco si è fatto. Quello che non si è fatto in questi anni è, per prima cosa, non recepire le direttive europee che prevedevano un sistema di tutele anche per questi lavoratori precari discontinui. Quello che non si è fatto da quando è iniziato il lockdown è prevedere delle tutele che garantissero degli ammortizzatori sociali per traguardare questo percorso di chiusura del settore. Il compito cui i sindacati invitano la politica è subito detto. Quello che dobbiamo portare in questo settore è un sistema di previdenza e di tutele sociali chiaro, definitivo e perdurante nel futuro. Però stamani in piazza si sono palesati perlomeno altri due problemi. Mancava ad esempio il sostegno del pubblico che riempie i teatri, magari causa l'ora della manifestazione. Ed è parso evidente che non esista una lobby che a livello nazionale si faccia carico dei lavoratori dello spettacolo. È una sensazione che noi viviamo quotidianamente sulla nostra pelle ormai da anni. Si fa campagna elettorale ogni tanto quando serve, però di aiuti concreti non ce ne sono di fatto. Sono lemosine oppure contributi a sostegno per tenerci a galla. Grazie.